Anche usate la testa, no, poi lo vedremo. Sì, Andrè! Sì, Andrè! Parapsia! Ma che non mi lascia! L'altro mio buono! Qui in testa va via! Chiama il barbone? Il barbone di Giamatore. Andrea? Alla sinistra. Non so, quello che ha la manica rossa. Non so. Il barbone è pronto? Mano! Il barbone! I cazzo c'è la barba così, tagliate la cazzo! Se io me la prendo così mia mano l'ammazza! Sicuramente! Quasi la stagione! No, non so! I giovano. Alla sinistra! Alla sinistra! Alla sinistra! Grazie a tutti i livelli! Vai in da venti! Dai ragazzi! Usiamo la testa! Bravo Gendis! Strappo! Strappo per Andrea! Paglia! Esce Andrea con il numero 9 e entra Francesco Zabello con il numero 2 Ecco! Esce da passare il numero 14 ed è punto degli amatori direttamente in diretta da Poggio René con Ferrera Scambio Francesco Venice, Venice Spatta Pippo Ed è punto di Pippo! Finiamo così ragazzi! Occhio! Su! Mamma Pippo! Mamma mia Pippo! Mamma! Siete arrivati dopo o' le? Loro, ci sono arrivati dopo? Non è già partita nella seconda non c'è l'acqua uno dei loro, non so chi, è arrivato al centrale, l'ha preso, l'ha buttato, l'ha scaraventato sul pannello Sì, ho partito in gara in seconda quadra, non avevo visto che aveva rimandato di là, tutti i miei amici ancora conoscono, io mi sono partito al campo, nell'attimo punto che lui l'ha lanciata, ormai era finita ma secondo tempo doveva essere Calma ragazzi, dai, calma Vai la lù E BAM! Vai! C'è l'interno Vai così In piena come un toro Forza il numero 10 Si prendete il numero 10? Mi chiedo se ci mandano il numero 10 BOOM! Sì Sino! Sì! Non vogliamo adesso, dai! Chi è sto qua? Oddio è pieno E' salta Fossile Bravo Fergie Cunfiate il cavo Si Anna! Vai Pippo! Corte ma va bene Corte ma va bene Dai che dici hai, get go! Dai ragazzi Calma ragazzi, calma Cos'è sta bene Fossile Esatto La ragazza qua la dica cattiva Chi è? Chi è? Chi è? Sì Chi è la legge Sì Chi è la miglioranza Sì Chi è la legge Ci è la legge Sì Su l'infesa Ragazzi Allora, finiamo! Almeno lo stesso, dai che ce la bevi, Mars! Bravo, Checo! Mario Denis! Checo! Pippo! Chiusi in difesa, Mars e Pippo! Vai Pippo! Sta a posto! No! Facciamo un volo veramente lì, facciamo un male boia! Bravo! Olè! Dai che ci vada al tango, andiamo! Dai ragazzi, noi ci siamo! Dai! Ci mettete al numero dieci! Ci mettete al numero dieci! Per 20 milioni! Trovate per 20 milioni! Sì, andiamo! Vuoi? Sì, grazie! Vendilo anche tutto su voi! Eh? Vendilo anche tutto su voi! Eh? Vendilo anche tutto su voi! Allora, che è dieci! Ciao Martù! Ciao Martù! Andrà a posto! Allora, ora! Ci vediamo! Quando cena, mangiate fonte! Martù! Come andiamo a comprare? Noi chiediamo a mettere un resto! Come ci andiamo? Cosa? Noi chiediamo a mettere un resto! Come ci andiamo? Non so che credo vengano per il telefono, poi... il giovedì facciamo il giovedì 6x non molliamo io non so se c'erò ma i prezzi ci sono ok, perfetto penso che il giovedì hai visto il Grest hai visto il Grest i clienti di formazione che fanno il listo del Grest e allora quindi bisogna vedere giovedì giovedì c'è stata riunione e provate a vedere finiamo il tempo no io ho portato la roba da lavare ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Aplausos. Unos. Caos. Su. Okio buonka. Sì! 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 Buongiorno! Buongiorno! Pesco! 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 Dai, ragazza! Forza! Io l'ho detto prima. Pesco! 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 Dai che c'eri! Non che sono bifo in partito. Grazie. Pesco! Dai, ragazza! Pesco! 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 Chiari! Pesco! Pesco! Braço, braço. Gi electronics sono partita a день aneh, diamacchio. Forza lina! Forza lina! Forza lina! Il mio Milan è bello! Buon anno! Forza lina! Io! Vittorio! 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 Sì! 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 No! Sì! 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 bravo bravo Sì, giusti! Vai ragazzi! Grazie a tutti 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 Bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti